Questo video riguarda i migliori 3 Dashcam Pro. Il vincitore della qualità è il Viofo Dashcam. Adotta il sensore Sony 8MP IMX317 di alta qualità sulla fotocamera, e, questa doppia telecamera cattura una visione super chiara a Ultra HD 4K 3840x 2160 30fps allo stesso tempo. La risoluzione 4K offre una qualità video straordinaria, 4 volte superiore rispetto a una normale registrazione Full HD. È dotato di un sensore di immagine da 8M, che fornisce un'immagine molto più chiara rispetto alla maggior parte delle telecamere da cruscotto di notte, si combinano con l'obiettivo di apertura 7, Glass 1.8F e la tecnologia WDR. La modalità di parcheggio buffer sarà in grado di registrare eventi che portano a un impatto barra movimento rilevato. I Wi-Fi Dual Band da 2,4 GHz e 5 GHz potrebbe trasmettere di frequenza standard per evitare interferenze wireless, offre una velocità straordinaria per il trasferimento dei file. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Vantrue N2 Pro. Basato sulla potente CPU Novatec NT96660, dotata di sensore Sony Exmor IMX 323 avanzato e OV4689, la cam WN2 Pro cattura simultaneamente la parte anteriore della strada e all'interno della cabina in dettagli in cristallo a W1920X1080p30fps. Doppio dashcam con sensore Sony IMX 323 avanzato, camma posteriore 2.0 f a 6 vetri e 4 LED IR migliorano notevolmente la visione notturna in auto in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo la guida più sicura di notte. La modalità parcheggio attivata dal movimento consente alla dashcam di registrare automaticamente quando rileva movimenti davanti alla tua auto. Il timer spegnimento automatico LCD ti assicura di non essere disturbato da un altro rettangolo luminoso ideale per la maggior parte dei climi. La telecamera dell'auto inizierà automaticamente la registrazione una volta che il motore si sarà acceso. La dashcamera eliminerà automaticamente il file più vecchio e lo sostituirà con il nuovo. Il vincitore del premio è il mio Mi Vue Dashcam Pro. Grazie a registrazioni di eccezionale definizione e nitidezza, una qualità delle visioni notturne migliorata e un ampio angolo visivo, sarà in grado di catturare tutto ciò che accade sulla strada con straordinaria chiarezza. Dotata di sensore ottico Sony di qualità superiore, con una sensibilità che va oltre la luce visibile per arrivare al vicino infrarosso, otterrai una visione notturna con una dashcam. L'eccezionale contrasto e i colori intensi consentiranno una chiara e precisa lettura delle targhe. La registrazione parte non appena si avvia il motore. La dashcam è dotata di Full HD da 1080p a 60fps, angolo visivo da 140 gradi e sensore di qualità superiore Stardis CMOE, prodotto da Sony, per filmati di altissima qualità, oltre ogni tua immaginazione. Ogni secondo di registrazione contiene 60 fotogrammi, rispetto ai 30 tradizionali. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.